I giovani del Sud non hanno bisogno del reddito di cittadinanza perché è un reddito che toglie dignità ai giovani. Non hanno bisogno di elemosi, non hanno bisogno di un sistema che permetta loro di non lasciare il Sud, di non spegnere i loro soldi e di poter trovare un lavoro. Quindi serve fare esattamente l'opposto di quello che viene proposto. Creare lavoro attraverso infrastrutture che siano stradali, autostradali, ferroviarie, digitali, portuali. Per far crescere l'economia. Io penso a un fondo che può essere realizzato attraverso i fondi europei non utilizzati. Sono circa 11 e passa miliardi arricchiti da fondi pensione, arricchiti dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalla Banca Europea degli Investimenti, dal piano Juncker e da banche private per realizzare progetti interregionali. Non per fare gli svincoli sotto casa degli assessori o i caselli sotto casa dei ministri, ma per dare al Sud la possibilità di avere finalmente l'alta velocità. Questo anche alla Sicilia e alla Sardegna. È inconcepibile che l'alta velocità si fermi a Salerno. È ingiusto. L'Italia ha bisogno di altro. Invece di pensare al reddito cittadinanza pensiamo a permettere a gente del Sud di credere in se stesse. Invece di pensare al reddito... Invece di pensare al reddito cittadinanza pensare al reddito cittadinanza pensare al reddito il too.